multiplo di neonato un vero trono per la pappa delle piccole star elegante dal look moderno multiplo fa della ricercatezza e dello stile made in italy un vero e proprio must le sue linee arrotondate lo rendono sicuro privo di spigoli o bordi taglienti per dare alla mamma e al bebè una sicurezza mai provata prima in più è riccamente imbottito e confortevole proprio a prova di capriccio ed è veramente sicuro grazie alla cinghia a cinque punti inoltre multiplo a tre utili tavolette una per la pappa una spaziosa per il gioco e la terza per la sicurezza del bambino tutte facili da lavare insomma il top dell'igiene e della praticità e per una maggiore comodità la seduta si regola in ben sei diverse altezze grazie alla prima maniglia posta sul retro dello schienale che con un semplice gesto ritorna nella sua posizione di base facile no ma non finisce qui la seconda maniglia serve per reclinarlo in quattro comode posizioni insieme all'appoggio a piedi e in più può essere regolato verso il basso anche con lo schienale reclinato c'è tutta la sicurezza che serve anche le ruote posteriori infatti hanno un freno multiplo si chiude con una sola mano basta impugnare la maniglia del cestino porta oggetti e fissare il gancio di sicurezza sollevando la seconda maniglia sul retro e voilà multiplo di neonato chiuso è leggero e compatto un vero e proprio capolavoro italiano